Quindi si parla di conciliazione, un tema molto caro alle donne in questo momento, perché significa spesso scegliere carriera, anzi famiglia. Conciliazione, sì, è un tema che non deve essere caro soltanto alle donne, ma alla società nel suo insieme, perché direi che a questo punto dovremmo evolvere verso la condivisione. La condivisione della società deve condividere la problematica del lavoro delle donne, che devono conciliare con altre funzioni importanti, come quella di essere madri, di essere inserite in un contesto familiare. L'intento della consiglia di parità dell'amministrazione è quello di fare per la prima volta il punto della situazione sulla conciliazione a Piacenza, perché fino ad oggi sostanzialmente non è stato fatto niente. Quindi un modo per estanare aziende pubbliche e private. Io sono convinta che ci sono delle buone prassi di conciliazione, solo che magari non vengono mai alla luce, non vengono mai riconosciute. E quindi questo è un modo per fare il punto della situazione. Se, come penso e spero, ci sono delle opportunità nel nostro territorio, allora esaltiamoli.